Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale In ridicolo abbiamo trovato i mini monsterflex di Noverso Sharks E io e Matteo vogliamo fare una bellissima sfida Marta verso Matteo Allora a turno, avrò detto Allora a turno dobbiamo decidere una squadra Poi dobbiamo allungare i monsterflex E chi allunga di più vince Lo misuriamo con il metro Sei pronto Matteo? Sì Allora adesso decidiamo la squadra Allora io e io e io e io Facciamo decidere alla sorte Chi è che prenderà Idino? Pronto? Sassos, carta, forbici Ah, io prendo Sharks quello che volevo Adesso ognuno dovrà decidere il componente della squadra Per farlo sfidare contro l'avversario Io pesco a caso Allora, ok Questo qui Matteo tu hai scelto? Sì Allora adesso vi faccio vedere i dettagli Ecco qui Lui è Triceross Guardate quando è bello Con le corna Questi muscoli Invece Matteo tu? Si chiama Spiro Guardate, con gli occhi Matteo Hai fatto una bella scelta Adesso li andiamo a spacchettare Aspettate, momento ASMR Bellissimo Ecco qui il mio Triceross Triceross Sì Guardate quanto è bello E questo è il mio Spiro Ok, adesso prendiamo il metro Ok, Matteo mantieni il metro Aspettate, ma mettiamola di contraria Abbiamo messo Da 140 No, no 140 centimetri 1, 2, 3 Sono 17 Sono 17 centimetri Ragazzi, ecco qui Dei fare di me 17 Vai Matteo Vediamo se mi superi 20 20 centimetri E per questo round Ha vinto Matteo Che cosa è? Passiamo al secondo round Io ho scelto Dilo Fox E io ho scelto Tiger Shark Vediamo chi vincerà questo round Apriamo FG Quello qui Ecco qui ragazzi Aspettate che io Vi devo far vedere I dettagli Guardate quanto è bello Questa bocca gigante Queste Matteo Che cosa sono queste? Le ali Le ali No Io non sono esperta Di dinosauri Guardate qui la coda Questo invece È lo squalo Di Matteo Guarda qui qua Tiene la pinna La bocca gigante Adesso Vediamo Quanto si allungano Ecco qui Matteo mantieni Non imbroglia No Non ti preoccupare Allora dai Dai Fammi vincere Dilo Fox Pronti? 3, 2, 1 26 Ragazzi Io ti ho battuto Matteo Questo round L'ho vinto Io Di sicuro Vai Mantieni Matteo Un po' più quadro Devi fare Vai 29 2 A 0 Io sono imbattibile Basta Io 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 Non sono bravo Io sono Impattibile Basta Te l'avevo detto Adesso vediamo Nel terzo round Vincere Io dai Per il terzo round Io ho scelto Tauro Invece Io ho scelto Black Orc Apriamo Ecco qui Non si apre Questo è qui Il mio Tauro Con Le corna Guardate qui Che muscolo Con la coda Invece Che c'è il mio È Black Orc È un'orca Un'orca Assassina Che ora Ti mangia Adesso Li andiamo A misurare Dai Per favore Il tuo amichetto Mi ha fatto perdere Almeno tu fammi vincere Uno Due Tre Trenta centimetri No Aspetta Trentuno Trentuno centime Trentuno centime Vai mantieni Voglio proprio vedere Tu cosa sai fare Matteo Metti la manina Qua Non si mette di là Trenta Tu Trenta Due No Matteo No guarda No Matteo Guarda ci faccio vedere Vai metti il mano Qua Trenta tre Trenta tre Trenta tre No basta Io ci rinuncio Come è possibile Vabbè dai Mancano altri Tre A zero Vabbè Passiamo al quarto round E adesso Tocca a me Giriamo la ruota Oh Gira la ruota Ma cosa mi stai facendo? Ah eh Mi sono scordata Vabbè dai Dovevo fare il balletto Di gira la ruota Io per questo round Ho scelto T-rex Il più forte Di tutti Io invece Ho scelto Mantarex Mantarex No guardate È più bello il T-rex No è più bello Mantarex Apriamo Che cosa è successo Qui c'è il mio T-rex Guardate quanto è bello Il più forte Muscoloso Con anche il laco Dino ovviamente E qua c'è il Mantarex Wow Matteo Però questa volta Vincerò Io Ok inizio sempre io No dai questa volta inizia tu Vai Matteo No inizia tu No 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 Matteo inizia tu Inizio sempre io E perdo sempre Aspetta Aspetta 25 26 26 Vabbè 25 26 Siamo lì Matteo mantieni Questa volta Dovrò Vincere 32 Ragazzi Vabbè tanto io sa 3 E tu stai a 1 Cioè io 3 A 1 Ui questi sono 32 centimetri Però lui balla Vabbè passiamo all'ultimo round Per l'ultimo round io ho scelto Pteragon Io invece Aspetta Pter Non lo riesco a Pteragon Pteragon Io invece ho scelto Shark Lui lo vedo molto molto forte Speriamo di vincere l'ultimo round Perché è quello decisivo Ah Avremo Tanto di sicuro ho vinto io Chi vince questo round Vincerà No Mi fa più punti Il Monster Flex Chi fa più punti è Questo qui è il mio Con anche le ali Guardate quanto è bello Il becco Invece questo è il mio Quello di Matteo Tutto sporco Che sarà Che cosa le è successo Inizia tu questo Round decisivo Ok Chi vince questo round Vincerà Tutti i Monster Flex Vai Matteo Aspettate Ce la fai? 32 32 Va bene Matteo 32 Speriamo di superarlo Perché Io Così mi prenderò Tutti I Monster Flex 3 2 1 34 Ragazzi No Hai blocato Hai blocato Hai fatto 31 Hai fatto 31 Dammi tutti i miei Monster Flex Che ho vinto io Ho vinto io No No Va bene ragazzi Se vi è piaciuta questa sfida Mettete tanti pollici in su Iscrivetevi al canale Condividete con tutto il mondo E noi ci vediamo al prossimo video Ciao No Ti 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 Ti